Amore, sei pronta che ti accompagni a maneggio? Sì. Ok, dai. Ma perché già siamo arrivati? Sì, sì, dai. Ah, ok. Tu comunque devi sempre aspettarmi. Ok, dove ti aspetto? Qua? No, no, mi devi aspettare dove si fanno le care. Ora non mi ricordo come si chiama. Ah, ho capito. Dove fai eguidizzazione, là, come si dice. Sì, sì. Io ti aspetto. Ciao! Ciao! Ok. Apriamo la stalla di Pina. Pina, che carina, ma che carina che è Pina. Allora, Pina, ferma qua! Che ti vado a prendere la sella. Oh, ci sta. Ho visto. Aspettiamo, ce l'ho bussato. Fammi vedere se mi dimentico qualcosa. Giusto, 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 fatemi cambiare. Ecco, ecco gli stivali, e li sono messi. Ora, Pina, e qua. Ecco, se si apriamo. Ecco. Ecco. Ciao! Ecco. Ora, devo solo spettare che mi portano. Ci, grazie. Ora, devo solo spettare che mi portano, che ho sentire che mi portano. Ecco l'ho bussato. Ecco. 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 forte ancora un altro quanto ne devo fare? ho paura di cadere ok ok allora ooo 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 a dio Andiamo! Questo è il più importante! Oddio, oddio, oddio! Santa Maria ce l'ho fatta! Oh no! Non è nemmeno il tempo di partire che applaudono questi! Oddio, oddio, oddio! Già superi i treni! Oh mio Dio! Questo per me è un onore! Salpare così tanto in alto! Oooo! Oooo! Oh Oh Sono troppo forte Oh Questo Questa cosa lo che si blocco ogni volta Non ce la faccio più Oh Oddio Oh Questa qui è tutta rosa Mi piace Oh 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 devi fare la miglior gara che tu abbia mai fatto, capito? vai Pina no, è Pina Pina, sei sempre tu Pina ma vuoi andare a prendere il cavallo? è sempre Pina Pina chissà a che posto arriverò secondo me arriverò al secondo posto perché Pina è così, lo sapete Oddio, poi chissà a che livelli sarà stato? a che livelli sarà? Sì, sì, sì.